Eccoci qui ragazzi ben ritrovati, buon mercoledì, si avvicina il debutto casalingo della Roma in campionato, giocherà Roma Empoli domenica alle 20.45, tiene banco comunque ancora il mercato visto che siamo al 21 di agosto e mancano 9 giorni alla fine del mercato, un mercato ragazzi fermo, bloccato, una situazione veramente surreale sulla questione di Bala perché ragazzi io non ne posso più, non ne posso più questa situazione, soprattutto si denota una certa confusione nel gestire questa situazione da parte di tutti, dalla società, dall'allenatore e anche da di Bala ragazzi, lo dobbiamo dire perché prima accetta, poi non accetta, poi deve andare a cena con la moglie, poi deve arrivare la mamma dal Sud America per consigliarlo, allora questa situazione si deve stabilire una volta per tutte ragazzi, cioè o te ne vai e lo dici subito o rimani e lo dici subito, cioè non si può andare avanti così ragazzi, perché il mercato è bloccato, perché in base alla decisione di Bala o se completa la squadra o rimane di Bala e vengono presi giocatori in prestito cercando di completare la rosa con quello che c'è sul mercato da prendere a poco, parlamoci chiaro, questa è la situazione, se parte di Bala invece e magari si ha una plusvalenza netta di 15-20 milioni di euro per cartellino più tutti i soldi che si risparmiano dell'ingaggio tra quest'anno e l'anno prossimo, allora si può pensare almeno di prendere due giocatori forti, uno a centro campo e un esterno sinistro d'attacco, questa situazione veramente ragazzi mi ha stancato e denota, ripeto, una totale inadeguatezza della società, del calciatore e dell'allenatore nel gestire una situazione a tre giorni dall'inizio del campionato, una totale confusione inaccettabile e io ragazzi sono veramente saturo, veramente saturo, speriamo che prima di Roma Empoli se possa decidere una volta per tutte cosa deve fare di Bala e come potrà andare avanti il mercato della Roma, mercato della Roma che registra in queste ultime ore alcune notizie, ve le do insomma come sempre, allora intanto Bella Nova ragazzi, primo obiettivo della Roma e di De Rossi ha pensato bene di accasarsi all'Atalanta, l'Atalanta è nata lì dal Torino, gli ha dato i soldi che voleva, in 5 minuti 6 è preso, noi invece stiamo lì ammette contropartite tecniche, ammette prestito, diritto, obbligo di riscatto, stiamo a contrattare su uno o due milioni, poi ragazzi l'altra squadra vengono con i dirigenti molto più capaci e se lo portano a casa, a me questa cosa mi fa veramente roter culo e questo denota una totale inadeguatezza anche della società nei tempi per gestire la squadra cioè tu non puoi presentare il direttore sportivo a maggio e a giugno inizia il calcio mercato e questo si deve inventare i draghi per cercare di fare un mercato tutta fretta senza programmazione, oltretutto non è stato neanche presentato Ghisolfino, non ha fatto una conferenza stampa di presentazione alla stampa, ai tifosi, questo è arrivato, si è messo a lavorare, non ha mai parlato, non ha mai fatto dichiarazioni, ragazzi questa cosa a me mi manda veramente ai pazzi, soprattutto la questione del terzino destro mi manda veramente ai pazzi perché noi sono dieci anni che non abbiamo un terzino destro di valore, il primo acquisto che dovevi fa st'estate era il terzino destro perché porca troia stai con i morti in campo e lo si è visto anche contro il Cagliari, cosa vuol dire giocarco Celic, giocarco Celic a questo punto avrei fatto giocare Sangare anche se c'era 16 anni perché tanto peggio non poteva fare, e il buon Ghisolfi come primo acquisto ha preso un giocatore totalmente inutile che non ci serviva come Lefe perché non è il centrocampista prototipo che vuole De Rossi pagandolo oltretutto uno sproposito 23 milioni, qui 23 milioni che potevano essere subito spesi per Bellanova e avresti risolto una volta per tutte il terzino destro, invece no, abbiamo speso 23 milioni per Lefe che sinceramente ragazzi può anche essere un buon giocatore e lo vedremo col passato del tempo ma non era la pedina fondamentale che ti serviva perché tu dovevi prendi, esterno sinistro d'attacco, centravanti, terzino destro e questi qua praticamente non ne hai preso nessuno a parte Dobby che su lei che però gioca a destra, per cui ragazzi io sono veramente perplesso sulla gestione di sto calcio mercato da parte della Roma perché vedo tanta confusione, io posso anche essere d'accordo nella nuova programmazione della società che mira ad abbassare il monte in Gaggi e invece a investire sui cartellini sui giocatori giovani perché Sangare è 16 anni, Dalle 21 anni, sulle 21 anni, Dobby che comunque è un centravanti di 27 anni ma è un giocatore che ci serviva già pronto in quel ruolo, però io ancora oggi non ho capito l'acquisto delle Fe, ripeto perché ci servivano altri prospetti prima di comprare il centrocampista che poi non è nelle caratteristiche di quello che cerca De Rossi. Adesso ci troviamo a 10 giorni dalla fine del mercato con la squadra incompleta, con tanti buchi in rosa e non si sa neanche se riuscivo a coperli. Allora, sul fronte terzino destro, Abdul Hamid dove è arrivato questa settimana non se ne parla più, sembra che stia rinnovando con l'Ali Lal e non si sa neanche se venga ancora qui a Roma. Assignol, che ripeto, per me è un giocatore che non ti fa fare il salto di qualità perché metà stagione nel Rennes, poi l'ha dato in prestito sei mesi al Barley in Inghilterra, giocatore che fa un gol barra due assist a stagione, che lo paghi 2 milioni per il prestito oneroso più 8 di obbligo di riscatto, 10 milioni vuol dire che è un giocatore sulla falsariga De Celic e a noi non ci serva nulla, non hai voluto investire su Bellanova, non sei riuscito a prendere altri giocatori, però ragazzi questo a me non mi convince, magari sarà forte e sarò il primo a essere felice, non ci so problemi su questo. È stato proposto anche Sergi Roberto, ex Barcellona svincolato, vedremo come andrà a finire. Questa è la situazione del terzino destro, insomma, sul fronte difensore centrale invece sembra quasi fatta qui anche un'altra operazione con la Juve, Di Alò, che è un giocatore di 24 anni che l'anno scorso l'ha preso la Juve e non l'ha fatto mai giocare praticamente, qui la situazione è più tranquilla e serena perché si parla di un prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni e dovrebbe venire a coprire il buco lasciato da Combulla che è andato in prestito alle Spagnole. Io ragazzi non lo conosco neanche questo dialogo, non so neanche se è il prototipo del difensore che ci serve, cioè veloce, se magari voi ne sapete più di me, informatemi perché sono due operazioni questi, terzino destro e difensore centrale che non mi convincono per niente queste operazioni per attappare giusto i buchi e non ti alzano il livello tecnico della squadra. Sul centrocampista ragazzi forse l'unica voce che mi fa piacere è quella che la Roma è interessata a conè del Borussia Mönchengladbach che è un giocatore che a me piace tantissimo perché è uno che veramente fa i strappi e fa tanta densità in mezzo al campo, è uno che comunque punta la porta, è uno che corre come un addannato e è quello che ci serve, il centrocampista dinamico che non ci abbiamo. Quindi speriamo che magari questa voce su conè sia vera perché è proprio il giocatore che ci serve lì in mezzo. Chiaramente costa anche lui 20-25 milioni e può arrivare soltanto se Di Bala va via. Sull'esterno invece sinistro d'attacco i nomi ragazzi sono sempre i soliti e non ci scrostiamo da lì. Boga con cui la Roma ha già l'accordo con il giocatore ma non con Inizia che continua a chiedere 20 milioni. Richelme dell'Atletico Madrid che verrebbe a Roma volentieri perché è anche uno stipendio basso mi pare sugli 800 mila euro ma che l'Atletico Madrid valuta 25-30 milioni e per me è una cifra sopra le righe questo giocatore dei 25 anni. Poi c'è Galeano quello del Porto anche se qui mi pare una fake news perché Galeano ragazzi il Porto spara cifre altissime sui 40 milioni e non credo che la Roma li possa spendere. E Zegrova che era un piccolo pallino dell'inizio del campionato dell'Il 25 milioni è giocatore molto estroso ma anche un po' troppo discontinuo diciamo. Queste e quelle dell'esterno alto a sinistra mentre come vice Dobic si segue Depay che è svincolato e che potrebbe insomma trentenne essere interessato alla Roma solo che è in controsenso con il nuovo programmazione della Roma che non vuole ingaggi alti che questo richiede minimo 5-6 milioni giocatore dei 30 anni non credo che la Roma faccia un'operazione del genere. Sul fronte ai subini ragazzi stiamo sempre lì al palo. Abram continua a rimanerci sul gruppone con il suo ingaggio stratosferico. Le squadre di Premier prendono solo informazioni ma non affondano il colpo. Si è defilato ormai il Milan. Bove interessa sempre in Premier League e anche in Italia che è interessata la Fiorentina ma continuano a offrire cifre minori di quelle che vuole la Roma. Zaleschi ragazzi non solo caga nessuno. Smalling rifiuta l'Arabia Saudita e c'è un interesse della Fiorentina ma non si sa quanto concreto. Questa è la situazione ad oggi 21 di agosto ragazzi per quanto riguarda la Roma. Cioè stiamo alla seconda giornata già abbiamo perso due punti a Cagliari giocando una partita un po' così e mangiandoci un paio di go davanti alla porta. Dobbiamo fare l'esordio a Empoli in casa che dobbiamo vincere assolutamente perché poi la terza partita andiamo a Torino contro la Juve. E la situazione è questa ragazzi sono preoccupato, sono deluso, sono amareggiato e vorrei veramente che questa società sia più concreta, più decisa, che abbia una programmazione più seria e continua e che possa veramente essere formata da dirigenti capaci e non da gente campata in aria come Ghisolfi, come dirigenti che si sono causati nel corso degli anni. Ragazzi sto veramente veramente storto sto giro perché veramente non si può ammettere certe situazioni ragazzi, non si possono ammettere certe situazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate del video, iscrivetevi al canale, tanti like, commentate, speriamo di ricevere buone notizie in un modo o nell'altro su Di Bala, gli esuberi e le entrate. Per adesso vi saluto, se ci saranno novità ve li darò in maniera celere. Per adesso ragazzi buona giornata e sempre Forza Lua!